non voglio sapere niente finalmente le capite che hanno un favore di te ci hanno chiamato il bonus per tutti i sbagli che hanno fatto Megalo Vito Megalo anche tu sei qui direttamente da Napoli il bravissimo che coda di qua guardatevi che faccia megano questo con il bravissimo ricordiamo il tito ma veramente lo stiamo ancora decidendo però l'onore a te vai presto online su youtube a ragionamenti per ora presto online ripetiamo su youtube che coda di Gaitano Cordaro ciao ragazzi questa sera sono quando dovevi passare ho la simpatia in umiltà è colui che veramente è come lo vedete nei video grazie